Un saluto dal Tg della mobilità. All'Eur da oggi e sino al 31 dicembre sono previsti lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Europa tra la Colombo e Viale Shakespeare, Viale Boston, Viale America da Viale Shakespeare a Viale dell'Arte e Piazzale dell'Agricoltura tra Colombo e Via Ciro il Grande. Possibili rallentamenti per la viabilità pubblica e privata. E per lavori in Viale Sandrio Poerio all'altezza di Via Maurizio Quadrio la linea A75 in direzione Via Poerio da Via Calandrelli devia per Via delle Mura Gianicolenze e per poi proseguire per Via delle Mure Gianicolenzi, Via Carini e Via Fratelli Bonnet da dove riprende la corsa di ritorno. Temporalmente soppresse nove fermate. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS